Arriba Talita Cum, la nuova rubrica di approfondimento religioso in onda per la prima volta su telespazio tv a partire da martedì 8 ottobre alle ore 20. Adesso ascolteremo le domande che la vita pone alla fede. Con umiltà e saggezza teologica offriremo delle risposte che aiutino la mente credente a riflettere. Perché la fede senza riflessione è nulla. Non mancate!